Sono Rossella Levantino, sono proprietaria del ristorante Cotta, un ristorante che predilige moltissimo la stagionalità, le materie prime e l'esalta. Il nostro focus è quello di dare un cibo che dia alla persona benessere, benessere a 360 gradi, sia dal punto di vista proprio dell'ingerire, sia dal punto di vista degli occhi, sia dal punto di vista dell'anima. Dico dell'anima perché se mangiando un piatto di patatine fritte sappiamo che magari non è sano, ma sicuramente ci fa bene all'anima. Questa è la filosofia di Eccotta. Eccotta è un posto un po' particolare dove possiamo trovare dai centrifugati alle verdure, anche la carne, anche il pesce, dove possiamo imparare tante cose sul cibo e sull'alimentazione. Possiamo imparare a cucinare nel nostro angolo della scuola di cucina, possiamo partecipare ai seminari che facciamo sulla buona alimentazione, si può comunque chiacchierare con le persone e scoprire nuove cose sull'alimentazione. Questo è Eccotta. 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 Grazie a tutti.